allora dobbiamo presentare il nostro programma senza dire due ore il pomeriggio con i documentari no si può dire assi documentare si può dire documentare sui cento anni appena passati scorsi si scorsi diciannovesimo secolo neanche novecento non si può dire comunque i miti i miti i fatti principali i protagonisti regina elisabetta si può dire vabbè anche antonio di pietro marylin churchill lucas appino no scherzo e poi tanti ospiti ogni giorno un ospite per provare a allargare ne diciamo qualcuno no 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 tanto è tutti i giorni